domenica prossima avete la mattina impegnata si corre per una buonissima causa quindi tutti a malagnino per il primo memorial ermanno d'ossena la corsa aperta a tutti non avete scuse domenica 26 a malagnino vi aspettiamo per il primo memorial ermanno d'ossena possono correre tutti gli adulti e anche i bambini soprattutto abbiamo un'occasione importante per finanziare la ricerca sull'asla ci sarà una vendita di cartoline con ricavato interamente devoluto ad isla vi aspettiamo e soprattutto domenica ti sarà solo